Un bimbo di 9 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da una moto lungo la regionale 71 all'altezza del centro commerciale di Olmo alle porte della città di Arezzo. È rimasto ferito sia il piccolo pedone che il centauro. Sul posto si sono portati subito gli operatori del 118 Arettino, i vigili del fuoco del comando di Arezzo e gli agenti della polizia municipale di Arezzo per i rilevi di legge e la gestione del traffico che è rimasto congestionato per molto tempo. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno. Il 118 ha attivato sul posto un'automedica, due ambulanze e l'elisoccorso Pegaso. Il bimbo che ha riportato serie ferite è stato trasportato in codice rosso a bordo del Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il motociclista, un uomo di 47 anni, è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo.